La sfumatura con la penna Bic. Oggi affrontiamo questo tema e lo facciamo attraverso un disegno, un biroscape, eseguito apposta in maniera tale da esaltarne le caratteristiche. La sfumatura è un processo molto particolare che richiede attenzione e pazienza. Quindi, se volete intraprendere questo tipo di pratica, dovete armarvi di queste due cose essenziali. Accenneremo anche a un artista, un pittore molto importante della seconda metà dell'Ottocento, che è Georges Serrat. E lo faremo attraverso i suoi disegni, i disegni preparatori e i suoi grandissimi quadri puntinisti. E lo faremo attraverso anche le parole di Félix Fénéon, che era uno dei più attenti estimatori, critico giornalista intellettuale. E mi permetto di farlo consigliandovi questo libro. Scritti scelti di Félix Fénéon, caso editrice Grafos. È un autore che vi sorprenderà. Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona visione e ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video se lo trovate interessante e utile e soprattutto di commentare sotto la descrizione del video, perché i vostri suggerimenti e le vostre considerazioni sono molto importanti per me e mi aiutano nella scelta dei video che propongo sul canale. Dopo le consuete raccomandazioni, vi auguro una buona giornata, a tutte e a tutti e arrivederci a martedì. Questo video si può collegare ad un discorso più ampio, che poi magari avremo occasione di fare, sulla pittura e sui pittori. Mi piacerebbe infatti prendere dei dipinti e analizzarli dal punto di vista mio, e cioè di uno che dipinge, che cerca di comprenderne i meccanismi della tecnica e quindi di guardare il dipinto da un punto di vista un pochino differente. E a questo proposito, questo disegno mi permette di fare una riflessione circa un momento storico interessante, che è molto focalizzato più sulla pittura che non sulla costruzione di questa pittura. E parlo del puntinismo. Direte, cosa c'entra il puntinismo con quello che sto facendo in questo momento? Perché in effetti, in questo video, voi vedete la creazione di un disegno particolare che vuole essere proprio la rappresentazione di due figure totalmente diverse. Da una parte uno sfumato, direi quasi estremo, e dall'altra parte dei tratti incisivi, forti, di una materia possente. Quindi il contrasto, vedrete, tra queste due materie, fa sì che la materia sfumata risulti ancora più sfumata. e quindi il contrasto risulti ancora più forte. E vi dicevo il puntinismo, ma legato soprattutto alla figura di Serrat. Serrat, di cui si ricorda il suo più celebre dipinto, che è una domenica pomeriggio sull'isola della Grand Jatte, sarà di quello che mi interessa di lui, non sono tanto i suoi dipinti, ma i suoi disegni, che spesso, soprattutto dai non addetti ai lavori, non sono presi in considerazione. Cioè, del puntinismo si conosce la tecnica finale di realizzazione del disegno diciamo distaccato, quasi matematico, tra virgolette. Mentre la cosa che interessa invece a me è la costruzione mentale dell'evanescenza delle forme e della evanescenza dei contorni, che fanno di questo disegnatore secondo me uno dei più interessanti da un punto di vista proprio tecnico della seconda metà dell'Ottocento. Se andate a vedere i suoi disegni, troverete che questo che sto facendo in questo momento io non si discosta molto. Ovviamente lui usava delle superfici molto grezze, molto ruvide, in modo che gli riuscisse molto bene questo tipo di sfumato e quindi la trama della carta lo aiutava molto. Ma anche qui se vedete bene la trama della carta esce fuori. Esce fuori in maniera decisiva perché il controllo della penna viene proprio dettato dalla trama stessa della carta anche se molto fine però la penna condotta in questo modo in maniera così leggera e così direi ripeterei il termine evanescente perché questo calza molto bene la fa venire fuori la fa esaltare proprio come se noi mettessimo della graffite grattata della polvere di graffite e col dito passassimo sulla trama del foglio e quindi sebbene il foglio sia liscio per quanto sia liscio la penna non facendo pressione va a scoprire proprio la sua tramatura e ho cercato in un modo nel modo più più valido possibile per quanto mi possa permettere la mia la mia la mia camera di riuscire a rendere visibile questa questa tecnica e queste queste soluzioni questa soluzione grafica che ripeto deve essere svolta tenendo la penna a 45 gradi e non facendo sulle prime nessun tipo di pressione proprio lasciando che la penna scivoli avanti e indietro e costruisca proprio la trama del suo tratteggio lasciando che la la punta la sfera della penna proprio sfiori sfiori la carta in questo modo si può ottenere un buon sfumato tenendo la mano leggera e facendo un poco di pressione come faccio in questo caso per ottenere uno scuro maggiore e quindi una nuance che vada verso una tonalità più decisa dicevo che è curioso come il puntinismo sia proprio ricordato per la sua fase finale che è quella della sua stesura definitiva il dipinto è senz'altro più di effetto perché se noi pensiamo alla Grand Jatte la domenica sulla Grand Jatte e vediamo questo enorme dipinto che abbiamo davanti con questi puntini minuziosamente posti uno vicino all'altro ci rendiamo conto del grande lavoro prima di tutto dell'autore e del grande risultato dell'effetto che poi ha sui nostri occhi questo effetto lui lo pianifica attraverso dei disegni che sono che hanno molto in comune con lo sfumato che io adesso sto facendo in questo momento solo che ovviamente lui lo fa con la grafite con la matita col carboncino sembrerebbe inutile poter recuperare questo tipo di effetto facendolo con la penna ma a mio avviso proprio perché riesce la penna ad imitare in qualche modo la matita riesce anche a sfruttare quella che è la sua capacità di sfumatura e di profondità del tono dell'inchiostro queste due queste due proprietà insieme secondo me fanno di questo mezzo la peculiarità più importante adesso ho perdo molto tempo la gran parte del tempo del disegno viene persa naturalmente a costruire questa parte sinistra del lavoro che è importante perché è la protagonista di tutto il disegno cioè tutto il disegno è in funzione del riconoscimento e della visione di questa parte sfumata e sfocata che come ho detto con la figura che sta dall'altra parte del foglio rappresenterà proprio la l'intenzione della costruzione di uno spazio quindi di una profondità c'è un momento che però unisce gli studi di Serrat che lui fa per i suoi dipinti e i suoi dipinti e in particolare per quanto riguarda proprio la gran jatte perché c'è un punto esattamente un punto né più avanti né più indietro in cui l'occhio va in tilt e non riesce più a percepire i colori che vi sono dentro il dipinto e per un attimo il dipinto appare completamente grigio questo fenomeno è stato notato ed è interessante come in quel momento noi riusciamo a vedere tutta la struttura del disegno di Serrat dentro quel dipinto se noi guardiamo i disegni riusciamo a penetrare profondamente la struttura compositiva e l'intenzione compositiva dell'artista sempre i disegni sono una una costruzione necessaria da cui non si può sfuggire e che si a cui si deve arrivare attraverso la lettura anche delle opere non solo si deve a mio avviso partire dal disegno per riuscire a capire l'opera che è stata costruita su di esso ma al contrario guardare l'opera per riuscire a guardare a vedere sotto di essa il disegno che ne costituisce diciamo l'impalcatura adesso vedete questa parte una parte interessante perché lo scuro diventa più profondo ed ho avuto diciamo la fortuna che capita ogni tanto e in un video ne parlo di questo di trovare una penna con una sfera particolarmente particolarmente sensibile e scorrevole che non ha quel difetto che si evidenzia in altre penne in altre sfere cioè quello di depositare un poco di inchiostro sulla sfera quando si disegna si trattegia in una direzione e poi quando si solleva la penna e si rimette la penna dentro il disegno la penna inevitabilmente macchia ecco questa con questa penna particolare di questo lotto questo non succede e quindi questo permette di avere una maggiore libertà e di avere la possibilità di costruire una trama in modo più continuo quindi consiglio proprio che se a voi se trovate una penna che ha questa particolarità magari come ho detto nel video di qualche mese fa segnatela con un pezzo di scosce di carta in modo da poterla riconoscerla poterla usare per questo tipo di tramature adesso la costruzione di questo grande masso di questa grande forma che sta dall'altro lato dal lato opposto del disegno che abbiamo fatto perché ci possa restituire come abbiamo detto una forma che sia da contraltare con quella sulla sinistra per riuscire a creare la profondità ma non solo per riuscire a raccontare con un altro tipo di segno un'altra possibilità di intenzione grafica e quindi di rappresentazione a me piace anche con la penna schiacciare molto per riuscire a penetrare proprio dentro l'inchiostro dentro la carta e a creare quasi dei solchi anzi a crearli dei solchi all'interno della carta che si notano poco con la con la visione frontale soprattutto video e fotografica ma che che se viste dal vivo si notano si notano e permettono anche una lettura quasi più più materica anche dell'oggetto che in questo momento si sta guardando e che è stato disegnato proprio per avere questo tipo di risultato a questo punto del disegno mentre voi lo osservate mi piaceva leggervi uno scritto critico fatto dall'intellettuale giornalista scrittore Félix Fénéon che fu una delle menti più più attente alle rivoluzioni del tempo e colui che ha apprezzato più di tutti questo movimento ed era molto amico di Serra Félix Fénéon in un suo scritto trovato postumo parla del postimpressionismo del puntinismo e ne parla in questo modo fin dall'inizio i pittori impressionisti in quella loro cura della verità che induceva a limitarsi all'interpretazione della vita moderna direttamente osservata e del paesaggio direttamente dipinto avevano visto gli oggetti solidali gli uni con gli altri senza autonomia cromatica partecipi dalle usanze luminose dei loro vicini la pittura tradizionale li considerava come idealmente isolati e li illuminava di una luce povera e artificiale queste reazioni di colori queste improvvise percezioni questa visione giapponese non potevano essere espresse per mezzo delle tenebrose salse che si elaborano sulla tavolozza questi pittori fecero dunque delle notazioni separate lasciando i colori commuoversi vibrare i bruschi contatti e ricomporsi a distanza avvolsero di luce ed aria i loro soggetti modellandoli nei toni luminosi e a volte osando persino sacrificare ogni modellato del sole finalmente venne fissato sulle loro tele si procedeva dunque per scomposizione dei colori ma questa scomposizione la si effettuava in un modo arbitrario una certa scia di pasta veniva a gettare attraverso un paesaggio la sensazione del rosso certe rutilanze si intaccavano di verde Georges Serrat Camille e Lucien Pissarro Dubois Pillet Polsignac da parte loro dividono il tono in maniera cosciente e scientifica questa evoluzione è datata 1884 1885 1886 se nella Grand Jatte di Serrat si considera ad esempio un decimetro quadrato ricoperto da un tono uniforme si troveranno su ognuno dei centimetri di questa superficie in una turbinante ressa di macchioline tutti gli elementi costitutivi del tono questo prato nell'ombra dei tocchi in maggioranza danno il valore locale dell'erba altri arancioni sono più radi esprimendo la poco sensibile azione solare altri color porpora fanno intervenire il complementare del verde un azzurro ciano provocato dalla prossimità di una distesa d'erba al sole accumula le sue vagliature verso la linea di demarcazione e le rarefà progressivamente al di qua di essa alla formazione di questa stessa distesa non concorrono che due elementi del verde e dell'arancione solare di modo che ogni reazione muore sotto un così furioso assalto di luce già che il nero è un non colore questo cane nero si colorerà delle reazioni dell'erba la sua dominante sarà dunque il porpora cupo ma sarà attaccato anche da un blu scuro suscitato dalle luminose regioni vicine questa scimmia al guinzaglio sarà punteggiata da un giallo che è la sua qualità personale e macchiettata di porpora e di oltremare tutto ciò come fin troppo evidente indicazioni brutali in questa scrittura ma dosaggi complessi e delicati nella cornice questi colori isolati sulla tela si ricompongono sulla retina sia dunque non una mescolanza di colori materi e pigmenti bensì una mescolanza di colori luci quindi colori e luci insieme è il caso di ricordare che per gli stessi colori la mescolanza dei pigmenti e quella della luce non forniscono necessariamente gli stessi risultati è noto altresì che la luminosità della mescolanza ottica è sempre molto superiore a quella della mescolanza materiale così come viene chiarito dalle numerose equazioni di luminosità stabilite da Rud per del carminio violetto e del blu di Prussia da cui deriva un grigio blu 50 parti di carminio 50 parti di blu di Prussia sono uguali a 47 parti di carminio 49 di blu di Prussia più 4 di nero mescolanza dei pigmenti più mescolanza delle luci per del carminio e del verde invece 50 parti di carminio più 50 di verde sono uguali a 50 di carminio più 24 di verde e più 26 di nero si capisce bene che sforzandosi di esprimere delle luminosità estreme gli impressionisti come a volte già della Croix vogliono sostituire alla mescolanza sulla tavolozza la mescolanza ottica Georges Serrat per primo ha presentato un paradigma completo e sistematico di questa nuova pittura il suo immenso quadro la Grand Jatte in qualunque parte lo si esamini si stende monotone e paziente punteggiatura a razzo qui in effetti la pennellata magistrale è inutile il trucco impossibile non c'è spazio per i pezzi di bravura ma che l'occhio sia agile per spicace e sapiente su uno struzzo un fastello di paglia un'onda una roccia la manovra del pennello resta la stessa il soggetto con un cielo canicolare alle quattro l'isola fiancheggiata da barche che scorrono veloci animata da una domenicale fortuita popolazione alietata dall'aria aperta tra gli alberi e questi circa 40 personaggi sono investiti da un disegno ieratico e sommario trattati rigorosamente o di schiena o di faccia o di profilo seduti ad angolo retto allungati in orizzontale rigidamente eretti come se fossero di Puy-V lui qui parla di Puy-V de Chavanne un pittore modernizzante l'atmosfera è in modo singolare trasparente e vibrante la superficie sembra vacillare forse questa sensazione che si prova anche di fronte ad altri quadri della stessa sala si potrebbe spiegare con la teoria di Dove la retina avvertita che dei fasci luminosi separati agiscono su di essa percepisce con avvicendamenti rapidissimi e i singoli elementi colorati e la loro risultante quindi quando voi andate a guardare questo dipinto cercate invece i disegni preparatori per questo dipinto e avrete delle sorprese straordinarie spero che questo video sia stato interessante e utile vi ringrazio e vi invito a iscrivervi al canale a mettere un mi piace e a condividere il video questo è importante per il canale vi ringrazio ancora per tutte le vostre visualizzazioni e per le iscrizioni e vi auguro una buona giornata a presto grazie a tutti 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 grazie a tutti